Il Consorzio Ionio Crotonese è un consorzio che ha sempre il coraggio di mettere in evidenza quelle che sono le difficoltà e soprattutto di chiedere che ci sia una maggiore attenzione per questo nostro territorio. Sì, questo è il territorio più bistrattato della nostra regione, probabilmente dove ci sono le maggiori disattenzioni. Recentemente comunque abbiamo prodotto come su iniziativa del Consorzio, ma è stato sottoscritto da tutti gli enti comuni interessati, la provincia, che se l'ha fatto proprio le associazioni sindacali, un documento partendo dalla crisi dell'acqua idrica che abbiamo avuto nel mese di ottobre-novembre, quando ci fu comunicato che l'acqua nei Laghi Silani non ce n'era più e che c'erano solo 21 giorni di acqua disponibili per la città di Crotone, Rocca di Neto. Allora in virtù di questo abbiamo fatto un documento per essere di supporto alla regione Calabria nel momento in cui deve fare la trattativa con Adua di tenere conto di alcune situazioni che sono di particolare pregio e di interesse per i settori dell'economia, che non è solo l'agricoltura di questo territorio. La novità di questo documento qual è? Che finalmente c'è una consapevolezza da parte di più attori istituzionali che lavorano e operano nel territorio di assumere su se stessi la responsabilità della gestione del proprio territorio e di fare in modo di interessarsi in maniera preventiva a che vengono messe in essere le condizioni per poi poter esercitare la propria intrapresa nei vari settori. Perché noi ricordiamo che l'acqua è interessante non solo per l'agricoltura, ma serve per il turismo, serve per la popolazione civile, serve anche per quelle poche realtà industriali che abbiamo nel nostro territorio. Io spero che questo sia l'inizio di un dialogo maggiore di assumere la consapevolezza che le problematiche possono risolversi solo se vengono affrontate in maniera unitaria da un territorio, da una comunità che vive in questo territorio e che alcune cose li deve rivendicare, li deve sapere rivendicare nei modi giusti ma con la perentorietà e la capacità di salvaguardare gli interessi di questa comunità. Si parla sempre più di tornare ad essere un'unica provincia, dico io, che ci sia l'accorpamento, come è stato per le Camere di Commercio, anche dei consorsi, è vero? Si parla di una riforma sui consorsi di bonifica, non ne sappiamo molto se si sta realizzando, se la stanno scrivendo, la stanno scrivendo in qualche stanza privata, diciamo in privata intendo regionale, c'è qualcuno che ci starà lavorando. Io l'unica esigenza che pongo è che questo consorzio che riguarda la provincia di Crotone debba essere in un certo qual modo salvaguardato perché il consorzio di bonifica è un ente di prossimità, è un ente che ragiona, lavora, si scontra in trincea con le esigenze immediate di un territorio e con la collaborazione con gli altri enti può riuscire a lenire alcune situazioni. La riforma ben venga, nessuno è contrario alla riforma, ma quello che non è accettabile è che la riforma venga fatta a passare come un momento della soluzione dei debiti dei consorsi. non è in questi termini, la regione non è che non può fare fronte ai debiti dei consorsi, i debiti non sono dei consorsi, ma sono di una gestione del settore della forestazione che negli ultimi 20 anni ha lasciato molto da desiderare, molti dubbi e soprattutto se non si pone fine in un certo qual modo a questa situazione, a questo settore della forestazione, nel senso che si faccia una rendicontazione puntuale, precisa, non ci può essere riforma che poi non tenga conto del passato. I consorsi avanzano molti soldi, la regione li contesta, però quando ci sono delle contestazioni tra soggetti diversi deve essere un terzo a doverne comunque stabilire qual è la verità, quale sono gli atti concludenti o inconcludenti che portano poi alla soluzione. Allora con buon senso si possono fare le migliori riforme, ma se la riforma viene fatta per mettere tutto sotto il tappeto allora non serve e soprattutto lascerà tante situazioni che poi renderanno impossibile la vita anche ai consorsi futuri. L'assessore Gallo pare che sia molto interessato verso l'agricoltura come assessore. So che puntualmente vengono stanziati dei finanziamenti per andare incontro a quelle che sono le esigenze di questo settore. Anche Crutone rientra in questo? Sì, noi rientriamo nella percentuale che abbiamo come aziende agricole. Noi siamo la quarta provincia e come dimensionamento rappresentiamo circa il 10% nel panorama calabrese. L'agricoltura necessita di una maggiore attenzione perché probabilmente insieme al settore culturale, del turismo, dei beni culturali è il filone su cui puntare per una rigenerazione o una riaffermazione del nostro potere attrattivo. Da questo punto di vista la PAC, il PST, teniamo conto che il bilancio regionale offre poco perché è molto ingessato per le spese sulla sanità. C'è poco margine di manovra dal punto di vista della regione. Però con la PAC europea, con i contributi della politica europea, allora sarebbe cosa buona e giusta vedere il più possibile di fare in modo di finanziare quei volani che poi sviluppino nell'ambito del territorio o creare le infrastrutture necessarie affinché le nostre imprese possono essere facilitate nella loro intrapresa. Lei diceva bene quanto riguarda l'agricoltura nel nostro territorio. Dobbiamo dire che Crotone, oltre ad essere stata una città industriale, è stata anche una città con tantissime aziende, piccole, medie, aziende anche familiari di agricole. Io mi ricordo nei primi anni del 2000 erano quasi 1600, Crotone è la zona periferica. Oggi qual è la situazione? Molte di queste aziende sono state chiuse? Molte sono state accorpate. Perché mentre prima anche con un minimo etteraggio si riusciva a portare avanti diciamo l'intrapresa aziendale, le famiglie potevano crescere, adesso è diventato molto difficile per la cogenza delle norme, perché l'azienda deve essere strutturata in un certo qual modo, per garantire sicurezza, per garantire i diritti di ogni cosa. C'è una difficoltà a reperire anche la mano d'opera. Ci sono varie situazioni che hanno portato a far sparire l'agricoltura di nicchia, quella piccola, le piccole aziendine familiari, la piccola quota, come veniva definita negli anni 60 con la legge SILA, la quota che veniva assegnata con la legge SILA. Non c'è più questa possibilità, però ciò non significa che non abbiamo bisogno di cibo. Noi abbiamo la necessità di cibo, tra l'altro facciamo parte anche di un brand Italia che nel cibo ha il suo percorso, ha la sua riconoscibilità, ha il suo perché. E quindi io credo che dobbiamo strutturare la nostra agricoltura. Poi Crotone è una città tipicamente, una provincia tipicamente basata sull'agricoltura. Abbiamo avuto pure la fortuna, perché il cambiamento climatico incide sulle produzioni agricole, di avere due laghi SILA grandi in SILA che ci consentono di avere quei serbatoi. Dobbiamo ringraziare la lungimiranza di chi agli anni, negli inizi del Novecento, li ha fatti. Però adesso dobbiamo cercare di efficientare e migliorare il tutto. Noi come Consorzio ci siamo candidati, abbiamo avuto coraggio. Devo ringraziare la mia struttura tecnica e amministrativa del Consorzio, perché siamo riusciti ad attrarre in concorrenza, quindi non erano scontati. Abbiamo appaltato entro il 31 dicembre proprio 60 milioni di euro con gare in cui qualche gara è stata già affidata, quindi abbiamo già la ditta che deve eseguire i lavori. Due o tre sono in pubblicazione di bando. Questo è stato possibile perché è passato, chiamiamolo così, il treno del PNR. Per poterlo fare c'è voluto il coraggio di investire e di decidere. Si è potuto fare perché l'investimento è stato deciso nel territorio, cioè è stato deciso da un Consiglio di amministrazione, di un Consorzio di bonifica, praticamente legato al territorio, proveniente, radicato nel territorio. Ecco, e poi ci ricolleghiamo a quella della riforma. dobbiamo stare attenti a questi valori, questa capacità di lettura delle esigenze del territorio e di intervenire nel momento e nella tempistica necessaria di saperceli mantenere. Noi dobbiamo crescere come classe dirigente. Io quando parlo di classe dirigente di tutto il territorio, perché molte volte adesso, per come si è dipanata, noi non riusciamo né a eleggere consiglieri regionali, deputati, probabilmente non eleggeremo più deputati o senatori, a meno che non esca, non emerga qualche figura particolarmente con la capacità di imporsi, diciamo, a livello regionale. E questo però non ci deve fare perdere di vista il fatto che comunque i problemi ci sono e che comunque noi siamo una comunità e che dobbiamo partire dai problemi, dalle soluzioni, condividere all'interno di questa comunità, in tutte le sue varie fasi, in tutte le sue varie esponenze, diciamo, la problematica, le soluzioni e poi andarle a rivendicare. Non c'è stato quindi un passaggio di testimone, di generazione nel nostro territorio e per le aziende? I giovani hanno dovuto fare la scelta di lasciare questo territorio, di continuare a vivere fuori? Il passaggio generazionale, ci sono state varie leggi che hanno, diciamo, incentivavano il passaggio, però molte volte vengono fatte all'interno del gruppo familiare per poter, diciamo, aumentare la propria liquidità e la propria capacità poi di gestione dell'azienda. Non è più il momento di aziende piccole, anche se c'è una tendenza a ritorno, diciamo, a un'agricoltura più sostenibile, perché il nostro ambiente ne sta soffrendo per tanti motivi e lo si evince chiaramente dalla situazione climatica. Però per poterlo fare ci vorrebbe una governance europea mondiale che stabilisca determinate situazioni, perché altrimenti l'Italia da sola, di per sé, non avrebbe una capacità concorrenziale poi nel perseguire determinate scelte. Per quanto riguarda l'acqua, il problema dell'acqua, noi spesso ne parliamo con lei perché chiaramente la situazione è sempre critica, ma non è critica soltanto, dobbiamo dire, per le aziende, è critica anche per i cittadini, per le famiglie. Sì, la fonte dell'acqua è sempre i due laghi Silani, Arvo e Dampollino, quindi l'acqua sia per l'agricoltura che per il potabile e per gli altri usi e deriva da lì. Tanti anni fa noi, la Regione Calabria, ma senza volerlo perché siamo passati da un regime di monopolio a un regime di libero mercato, ha avuto la concessione di questi nel 2009, ha avuto la gestione, quindi la concessione per questi, l'ha acquistata da un'altra società privata, la 2A. La Regione Calabria ancora non ha mai potuto fare un bando, però l'acqua è di proprietà della Regione, quindi, stante l'accelerazione di questi fenomeni, noi passiamo da bombe d'acqua a fenomeni lunghi di siccità, non abbiamo gli invasi che quando piove possiamo captare l'acqua piovana, tenga conto che in Italia si capta solo l'11% dell'acqua che piove, e se non aumentiamo questa percentuale perché i fenomeni andranno sempre ad acquisirsi, ad aumentare, allora nella nostra Regione in questo momento si ha la necessità di fare chiarezza che la legge, quindi non Roberto Torcia e il Consorzio di Crotone, stabilisce che come uso prioritario c'è prima l'idropotabile, al secondo posto c'è l'agricoltura e poi c'è l'uso industriale. In Calabria, nel nostro territorio, nella nostra provincia, non c'è questa classifica, questa graduatoria di utilizzo dell'acqua. L'acqua viene utilizzata dalla società che gestisce, soprattutto in relazione alla borsa merci dell'energia. Deve ottemperare il rilascio di acqua per il territorio, ma non è collegato il rilascio dell'acqua che fa 2A, quindi la produzione idroelettrica, al fabbisogno della valle. Noi abbiamo la necessità urgentemente, lo stiamo dicendo in tutti i modi, alla Regione Calabria di far fare questo collegamento, cioè che sia il più possibile collegato al fabbisogno, in modo da conservare il più possibile l'acqua nei serbatoi. Io nella mia azienda mi conservo l'acqua, qui i serbatoi sono sempre pieni per far fronte alle possibili annate di siccità. Lo stesso non sta avvenendo in Calabria, dove noi abbiamo dei fenomeni di siccità molto marcati, che incidono nella vita turistica, nella vita della popolazione e nella vita di altre. Poi c'è il problema delle infrastrutture. Crotone molte volte subisce la mancanza di acqua, perché abbiamo 20 chilometri circa di un tubo oramai obsoleto, che necessiterebbe di essere cambiato, di essere ammodernato, sostituito, perché non si può riparare. È stato presentato al 15 settembre, a scadenza, nel programma CIS, il progetto da parte di Sorical. Su un altro piccolo progetto l'abbiamo presentato, anche noi come consorzio, per uno snodo particolare. Allora speriamo che la Regione Calabria metta come prioritari nell'ambito di questo programma di finanziamento di interventi la sostituzione di questo tubo, che quantomeno garantirebbe il potabile per la città di Crotone, che non siano sempre quelle continue manutenzioni obbligate. Altra cosa, ribadisco, è la conservazione dell'acqua, che è il contenuto di quel documento di cui parlavo prima, che io lo considero come un documento innovativo, perché è la prima volta che più enti condividono, assumono la consapevolezza della criticità, perché abbiamo avuto la paura di restare senza acqua, anche dal punto di vista, e allora chiedono come territorio la massima attenzione per evitare che nel futuro si possa verificare nuovamente la stessa situazione. L'impianto di San Giorgio? L'impianto di San Giorgio si riferisce al raddoppio dei serbatoi. Credo che sia una cosa giusta che sta facendo il sindaco, perché le rotture ci possono essere sempre state, però se uno riesce a sopperire quei giorni della manutenzione e l'acqua non manca, io credo che sia la cosa giusta. È quello che abbiamo, tra l'altro, consigliato anche al Comune di Cutro, perché molte volte si rompe il tubo, che potrà sempre rompersi, ma avere un serbatoio che ti consente i 3-4 giorni necessari per la manutenzione, la popolazione neanche se ne accorgerebbe della rottura e quindi dell'intervento per la manutenzione. La popolazione neanche se ne accorgerebbe della manutenzione. La popolazione neanche se ne accorgerebbe della manutenzione.